Arrivano le squadre dei Vigilantes anche a bordo dei mezzi di Sita Sud a Salerno e nella provincia. Le misure anti-aggressione e anti-portoghesi sono già operative con successo sui mezzi di Bussitalia. Due componenti delle squadre previste, un verificatore aziendale e un Vigilantes a tutela della sicurezza dei viaggiatori e del personale a lavoro. Noi in Bussitalia stiamo avendo risultati ottimi, la verifica sta andando molto bene. È un progetto per quanto riguarda Bussitalia voluto dall'ingegnere Barbarino e che effettivamente sta avendo i risultati sperati. Per il momento non si sta sentendo più nessuna aggressione, quindi anche sulla sicurezza è un progetto valido. Noi chiedevamo Sita tempo fa di aumentare la verifica a bordo dei mezzi per abbattere questa evasione. L'azienda per tutelare maggiormente gli operatori che effettuano questo tipo di lavoro ha deciso di aggiungere anche la polizia privata proprio per dare più sicurezza ai conducenti, i viaggiatori e agli operatori di controllo. Certo questo è un grosso investimento perché per le aziende che già sono in sofferenza mettere dei costi aggiuntivi per poter pagare la polizia privata la dice lunga. Però vuol dire che questo investimento avrà delle ripercussioni economiche, rientreranno più economie perché l'evasione anche in Sita è più bassa ma c'è ancora. Stiamo operando tutti quanti per abbatterla. Stiamo operando tutti quanti per abbattere la polizia privata.